Con l'obiettivo di arricchire la qualità dell'informazione statistica, ampliarne l'offerta e contestualmente ottimizzare le diverse risorse necessarie alle varie attività, l'ISTAT ha intrapreso negli ultimi anni un percorso di modernizzazione anche in relazione con altri enti istituzionali e privati. Siamo passati infatti da un modello che prevedeva di chiedere direttamente ai cittadini le informazioni necessarie per alimentare il patrimonio statistico ad un altro paradigma basato sull'integrazione di dati provenienti da una pluralità di fonti, sia amministrative e quindi tradizionali, sia innovative come i big data. Questo incontro sarà quindi l'occasione per mettere a fuoco alcune spinte innovative nella pubblica amministrazione che si trovano in servizi migliori per i cittadini e gli utenti in generale. Partendo dal sistema integrato di microdati dell'ISTAT, ovvero dal repository dei dati amministrativi dell'Istituto, passando poi per un esempio di interazione e scambio delle informazioni fra ISTAT e un ente esterno come la Banca d'Italia, con uno sguardo anche al contesto internazionale, arriveremo a parlare del catalogo nazionale dei dati, mattone fondamentale per l'attuazione del Polo Strategico Nazionale. L'occasione sarà durante la Conferenza Nazionale di Statistica. Vi aspettiamo!